Siamo con Mr. Campagna, allenatore del Sermoneta Categoria 2003. Anche questa mattinata, insomma, impegno per i vostri ragazzi in un percorso di crescita che comunque vi sta vedendo protagonisti. Sì, anche oggi veniamo qua per fare la nostra partita. L'obiettivo principale è sempre quello di divertirci. Fa una bella partita e poi il risultato che viene, quello non è importante. L'importante è che giocano tutti e che giocano bene. Diciamo che l'obiettivo che tutte le società si propongono in questi sei mesi di torneo è quello di far crescere i giocatori dal punto di vista sia umano che tecnico e caratteriale. Sei d'accordo con questa mia disamina? Esatto. L'educazione, il rispetto delle regole prima di tutto. Dopo viene la formazione del calciatore. E l'obiettivo, diciamo, dal punto di vista sportivo qual è per quest'anno? Per quest'anno non è relativo a quest'anno. È un biegno, un triennio di crescita che li deve portare a essere pronti per quando andranno a fare giovanissimi, questo è l'obiettivo.